Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande fatte sui miei social, Instagram, Facebook e YouTube. Ma qual è la domanda di questa settimana che davvero in tantissimi avete posto? Le novità sul terzo settore. Allora, prima di darvi la risposta, vi volevo ringraziare perché siete davvero in tantissimi che mi stai seguendo su Instagram, anzi, se ancora non l'avete fatto, seguite Danilo Ramanic su Instagram. Inoltre, invito a visionare anche il sito internet www.daniloramanic.it, anzi, ve lo mostro anche, eccolo. Al suo interno troverete tutte le news e curiosità nel mondo della danza, fitness, pilates, wellness e lo sport in generale. Ma veniamo subito alla risposta di questa settimana. Febbraio, ottobre, 31 marzo 2021. Ebbene sì, è proprio questa la data delle RUNS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Quindi tutte le associazioni di volontariato, onulus e di promozioni sociale avranno altri 5 mesi di tempo per mettersi in regola. Ricordiamo che le modifiche statutarie sono diverse, quindi io vi consiglio di rivolgervi al vostro consulente o commercialista per farvi dare un consiglio di come creare lo statuto. O tantomeno come modificarlo. Ebbene sì, in tanti mi avete scritto, è stata molto turbolenta la cosa e ancora non si vede la fine. Perché, ahimè, 31 marzo 2021, ma dobbiamo aspettare per vedere se effettivamente andrà in porto meno. Ricordiamo che siamo partiti dal mese di febbraio 2019 e date tutto quello che è successo, ovviamente ci sono stati degli slittamenti molto importanti. Adesso siamo arrivati a marzo 2021, 31 marzo 2021. Quindi per tutte le associazioni di promozioni sociale, di volontariato e di onulus, attenzione, 31 marzo 2021. Per tutte le news e novità www.daniloravnici.it o il mio canale YouTube Danilo Ravnici. Cosa dire? Come al solito, se il video ti è piaciuto, condividilo, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo a breve con tantissimi nuovi video. Ciao a tutti!